Una grandissima emozione perché è un momento proprio di contatto vero con il tuo popolo, con la tua città e chiaramente coinvolge certamente il tuo cittadino, coinvolge tutta l'amministrazione ma soprattutto coinvolge i sassaresi. La Faradda non è solo un evento religioso. Io credo che nei sassaresi veri, quelli che proprio amano la propria città, amano i candelieri, sia assolutamente superfluo pensare a una contestazione dell'amministrazione del suo sindaco. Superfluo e soprattutto negativo perché diamo un'immagine al resto del mondo, al resto della Sardegna, dell'Italia, negativa. L'amministrazione certamente avrà modo di essere criticata, non c'è dubbio, non siamo nati per essere perfetti. Però credo che la perfezione nel rispetto della manifestazione dei candelieri, della decennia dei candelieri, debba essere la prima preoccupazione di ogni serio e vero sassarese. Io credo che la città saprà rispondere in modo adeguato e isolando chi vorrà sporcare la manifestazione di contestazioni che sono davvero fuori luogo.